Musica Bentrovati cari amici di Roba e da Fedagri, nuova puntata dedicata come sempre alle news. Una volta al mese ci immergiamo in quelli che sono gli aggiornamenti del mondo di Conf Cooperative Piemonte dedicati all'agroalimentare. In modo particolare, essendo la settimana di Ferragosto, diamo un taglio un pochino diverso. Ci immergiamo in quella che è la specificità della stagione in corso, stagione estiva, per certi versi molto complicata. Lo abbiamo visto con l'intervento di domenica scorsa dedicato alla campagna Drupace, pesca in particolare. E oggi invece parliamo di un prodotto che svetta dal punto di vista della redditività dei produttori, ma direi anche per l'interesse riscontrato sul mondo dell'industria, oltre che della salute. Stiamo parlando di nocciole e lo facciamo con un ospite del tutto speciale, oltre che essere la vicepresidente di Fedagri Piemonte, è anche una delle massime esperte a livello nazionale, proprio in ambito corridicolo. La saluto volentieri, benvenuta Nicoletta Ponchione. Grazie per l'invito. È molto importante in questo periodo approfondire un attimino il discorso della nocciola, fatto attraverso Fedagri, fatto attraverso Conf Cooperative, perché proprio in questo periodo noi siamo molto vicini ai nostri produttori, attraverso l'organizzazione dei produttori, e stiamo svolgendo un ruolo fondamentale per la difesa proprio della cultivar tonda gentile trilobata in Piemonte, attraverso un'azione che abbiamo intrapreso nei confronti del Ministero. Pertinente la precisazione di Nicoletta Ponchione sul ruolo di Fedagri nell'ambito della tutela, della denominazione delle langhe per la nostra nocciola Piemonte IGP, ne parleremo più tardi, ma partiamo da quello che è il tema appunto del momento. Quindi sentiamo direttamente da Nicoletta qualche anticipazione sulla campagna di raccolta che è partita proprio in questi giorni. Allora, noi adesso abbiamo iniziato la raccolta, siamo nel pieno, da pochi giorni è iniziata sotto i più buoni auspici dal punto di vista meteorologico perché si sta svolgendo con un ottimo clima, le nocciole sono già secche sul terreno, quindi le operazioni di essiccazione ci saranno, ma saranno diciamo minori rispetto agli scorsi anni perché non sono troppo umide. Bisogna dire sui dati della produzione, non possiamo ancora dire proprio perché è iniziata in questi periodi. Quello che però mi dispiace sottolineare è che le gelate di aprile hanno un po' danneggiato la produzione perché il frutto era nella sua iniziale crescita e quindi oltre i problemi che si presentano tutti gli anni della cascola, quest'anno purtroppo c'è anche stato il problema della gelata primaverile che ha inciso sulla produzione. Inoltre bisogna anche dire che l'anno scorso c'è stata veramente un'abbondante produzione di frutto e visto che la tonda gentile trilobata dà un'alternanza, quest'anno le piante ne risentiranno. La cosa però favorevole da sottolineare è che le nocciole hanno dei buoni calibri, sono di ottima qualità proprio dovuto agli ultimi due mesi di clima secco, quindi speriamo bene che la raccolta proceda e che comunque non se ne risenta particolarmente sulla produzione totale. Abbiamo quindi sentito quelli che sono in retroscena partendo dalla cascola potente dovuta alla gelata di aprile, a quella che è la varia di piogge ovviamente della stagione in corso, quindi andiamo a capire quanto questo ha influito negativamente sulle quantità previste di quest'annata. La quantità su quest'annata molto probabilmente sarà più scarsa rispetto all'anno scorso. Teniamo presente che in Piemonte l'anno scorso sono stati prodotti circa 300 mila quintali di prodotto. Quest'anno non voglio dare dei dati precisi perché ovviamente non ci sono ancora, però si presume che un 20-30% in meno ci possano essere. La scarsità di produzione verrà compensata comunque dalla buona resa del prodotto perché le nocciole sono molto sane e sono veramente di qualità eccellente. E come abbiamo detto in apertura di puntata, si parla di tutti gli effetti di boom corilicolo, quindi la portata dell'interesse del mercato è crescente sul prodotto nocciola, sul prodotto nocciola piemontese, ma andiamo a riscoprire nel corso degli ultimi dieci anni quanto è cresciuto dal punto di vista dei numeri secondo i dati dell'anagrafe agricola del Piemonte. La nocciola in questi ultimi anni ha avuto uno sviluppo, come si è potuto anche apprendere dalle ultime notizie, ha avuto uno sviluppo veramente importante. Diciamo che è un momento storico per il comparto corilicolo. Se noi facciamo il quadro piemontese, teniamo presente che nell'ultimo anno le aziende sono aumentate del 30% e gli ettari sono aumentati del 16%. Siamo arrivati a circa più di 20.000 ettari coltivati in Piemonte. Il Piemonte è anche una regione importante rispetto all'Italia sulla produzione corilicola, è la seconda regione dopo la Campania e l'Italia, teniamo conto, è il secondo produttore dopo la Turchia. La Turchia è il competitor principale, il maggior produttore di nocciole, ha una produzione di circa 700-800 mila tonnellate all'anno e l'Italia ha una produzione di circa 120 mila tonnellate, questi sono i dati dell'ultimo anno. Quindi possiamo ben capire come sia importante per l'Italia e soprattutto per il Piemonte questo settore. Come chiamare la nostra nocciola piemontese? Una questione che è diventata ormai un dilemma, quasi una telenovela. Scherzi a parte, il mondo di Fedagri Piemonte ha fatto molto per determinare e in qualche modo precludere i fake sulla nocciola coltivata sul territorio delle Langhe. Seguiamo un attimo l'iter promosso proprio da Fedagri Piemonte insieme a Nicoletta Ponchione. La questione tonda gentile trilobata, tonda gentile delle Langhe. Una questione di battuta e che cercherò di spiegare brevemente perché è una questione abbastanza complessa. Quando venne istituito il registro nazionale delle piante da frutto ad ottobre 2016 ci accorgemmo che nella denominazione tonda gentile era stato registrato il nome tonda gentile delle Langhe proprio come varietà di pianta. A questo punto come Fedagri ci ponemmo la domanda, bisogna tutelare in qualche modo i produttori perché non volevamo che questo nome delle Langhe potesse essere utilizzato in tutto il mondo in modo indiscriminato perché si correva e si corre ancora il rischio, vi spiegherò poi perché, che il prodotto tonda gentile delle Langhe venga commercializzato in qualsiasi altra parte del mondo mettendo in confusione il consumatore e facendogli credere che un prodotto chiamato delle Langhe invece che cresciuto nelle Langhe in realtà questo prodotto viene da un altro territorio. A questo punto noi come Fedagri cosa facciamo? Promuovemo insieme alle nostre due organizzazioni di produttori, a più di 100 comuni dell'Alta Langhe insieme alle professionali, insieme al Consorzio di tutela Nocciola Piemonte IGP un ricorso al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali proprio per cercare di far togliere il nome Langhe, quindi questo toponimo geografico, dalla Cultivar perché per noi era veramente un grosso rischio e rimane ancora un rischio. Il procedimento giudiziario è ancora in corso, ci sarà un'ulteriore udienza il 21 novembre noi auspichiamo che la soluzione possa essere trovata prima non nelle sedi giudiziarie ma con una composizione amichevole col Ministero perché chiediamo che si renda conto che questo nome non può essere abbinato ad una pianta che può essere coltivata in tutto il mondo. Ed è notizia recente la cancellazione della denominazione Tonda Gentile delle Langhe dal registro vivaistico nazionale dell'Olanda, quindi andiamo ad approfondire questo dettaglio Nicoletta. L'Olanda ha tolto il nome Tonda Gentile delle Langhe dai propri registri delle varietà di piante da frutto Questa è stata un'operazione vista tra il Ministero politica agricola italiano e il Ministero olandese Questa per noi è già un primo tassello ad quella che speriamo sia una vittoria sull'intero fronte. Per noi era importante che il nome Langhe venisse tolto dal registro olandese perché gli olandesi sono molto forti dal punto di vista vivaistico e quindi poteva rappresentare per noi una minaccia nella commercializzazione di una pianta che comunque si portava il nome Tonda Gentile delle Langhe. Ci ha detto poc'anzi proprio Nicoletta Ponchione quanto il ruolo dell'industria dolciaria che ha riscoperto un nuovo interesse ma anche la volontà di promuovere in qualche modo il marketing dedicato alla nocciola del Piemonte sia determinante quindi andiamolo a riscoprire anche dal punto di vista del ruolo reciproco con le organizzazioni di produttori del mondo Fedagri Piemonte. Voi sapete che le nocciole hanno avuto anche questo enorme balzo in avanti anche perché c'è sempre una maggior richiesta da parte dell'industria dolciaria. Voi sapete che ci sono delle industrie dolciarie che sono leader in questo settore e non sono solo italiane ma hanno una caratteristica quasi di multinazionale. L'aumento di produzione non è stato, diciamo, non ha influito sull'abbassamento dei prezzi perché le industrie dolciarie fanno sempre più richiesta del prodotto nocciola. Infatti le due organizzazioni di produttori che sono presenti sul territorio piemontese la Piemonte e Asproco e la Scopiemonte hanno come principale, diciamo, cliente un'industria dolciaria, la primaria industria dolciaria del territorio italiano e questa è una cosa positiva perché le industrie vogliono un ottimo prodotto e le organizzazioni di produttori riescono a dare un buon prodotto perché alle spalle hanno dei soci che comunque coltivano le nocciole in un modo sostenibile, cercano di essere sempre attenti alla qualità. E dire industria parlando di nocciola ovviamente e dire Ferrero S.P.A. come ci preannunciava Nicoletta, andiamo a scoprire meglio quali sono stati gli effetti del progetto promosso proprio dalla Ferrero sulla nocciola che nell'arco di una serie di anni partendo dal 2014 al 2020 ha annunciato un incremento di ettaraggio di più 20.000 ettari questo ovviamente coinvolgendo anche il mondo della cooperazione piemontese. Ritornando al discorso dell'industria dolciaria che possiamo dire che è la Ferrero, non la Ferrero S.P.A. ha dato anche un input importante dal punto di vista vivaistico perché negli anni scorsi ha promosso un importante accordo Ferrero-Civi-Ismea perché ha ritenuto che ci fosse una maggiore, cioè voleva dare maggiore attenzione sulla qualità del materiale vivaistico da proporre ai nuovi corilicoltori poi per i nuovi impianti. A questo punto la Ferrero ha siglato questo accordo con il Civi, ha cercato di promuovere, le regioni hanno ben risposto, le prime quattro regioni sono state Piemonte, Basilicata, Toscana e Lazio con degli accordi che hanno fatto sì che le varie regioni nei loro piani di sviluppo rurale mettessero degli incentivi per i nuovi corileti e dall'altra parte dal punto di vista vivaistico ha sensibilizzato tutta una serie di vivai e ha selezionato alcune varietà che fossero poi dopo presenti sul mercato da dare ai corilicoltori e che avessero determinate caratteristiche di corrispondenza varietale, di assenza da particolari patologie quindi dare del materiale sano per delle coltivazioni poi sane per un buon prodotto. Nella tutela della corilicoltura non possiamo non parlare in modo particolare quest'anno della cimice asiatica che si è abbattuta sui corileti quindi anche delle specifiche che richiedono gli interventi da parte dei corilicoltori mantenendo una prospettiva di lotta integrata quindi barriere di sostenibilità. Sentiamo proprio da Nicoletta Ponchione che cosa si sta facendo in proposito. Allora diciamo che nel mondo della globalizzazione noi ci siamo anche globalizzati dal punto di vista degli insetti purtroppo in questi ultimi anni c'è una nuova minaccia che sta diciamo danneggiando i nostri corileti e sulla quale noi prestiamo particolare attenzione. Parlo della cimice asiatica, la Aliomorphalis. Questa cimice è arrivata qualche anno fa in Emilia Romagna e purtroppo in questi ultimi due anni l'abbiamo ritrovata in Piemonte su diverse culture e anche sul nocciolo. Questa cimice è altamente pulifaga vuol dire che comunque si ciba di qualsiasi varietà vegetale tra cui purtroppo anche il nocciolo. È molto più aggressiva rispetto alla cimice classica europea quella che la vediamo, quella lì verde che invade anche le nostre case d'inverno. Su questo insetto stiamo cercando attraverso i centri di ricerca, attraverso l'Università di Torino di trovare dei antagonisti, quindi di fare una lotta con insetti antagonisti che possono comunque non dico debellare ma comunque arginare questo che sta rappresentando un grosso problema. Tenete conto che uno dei principali difetti della nocciola è il cimiciato, quindi la puntura della cimice sul nocciolo. Quindi per noi aver adesso in Italia questa agliomorfalis è veramente un grosso problema che cercheremo nei prossimi anni attraverso i centri di ricerca e le università di riuscire ad arginare. Siamo in tempo di raccolta, lo dicevamo prima, sempre più macchine semoventi all'interno dei corileti ma soprattutto sempre più meccanizzazione. Questa è un po' la ricetta dell'innovazione che questo mondo ha colto direi quasi in avanguardia. Perché Nicoletta? L'aumento della produzione, come abbiamo detto prima, corrisponde ad un aumento della superficie impiantata a corileto. Su questo aumento noi dobbiamo fare un ragionamento e una riflessione. Noi visto che ci dobbiamo confrontare con i competitor esteri, allora noi dobbiamo anche cercare di, oltre che dare un buon prodotto, anche di diminuire i costi di produzione. In questo la meccanizzazione, soprattutto nell'ambito corilicolo, ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni. Da una coltivazione che era marginale, parliamo di vent'anni fa, ora è diventata una coltivazione ad ampio spettro che ha avuto bisogno, e le industrie di produzione macchine agricole su questo hanno dato la risposta, di un'elevata meccanizzazione. Questo però non preclude comunque sempre la qualità del prodotto, perché i noccioletti, anzi, gli agricoltori sono sempre più sensibili sulla coltivazione del noccioletto, quindi utilizzando delle pratiche agronomiche molto corrette, perché si è finalmente riusciti a capire che un buon prodotto dà comunque sempre un buon guadagno al produttore. La meccanizzazione si è, diciamo, evoluta con attrezzature che riescono a raccogliere le nocciole, quindi abbiamo diverse attrezzature che sono diverse a seconda dei terreni sulle quali la macchina va a raccogliere. Anche la gestione del post-raccolto è cambiato molto, tant'è che adesso le aziende hanno la consapevolezza che appena il prodotto viene raccolto deve essere gestito in un modo consapevole perché non ne risenta come qualità, quindi attraverso la pulizia e l'immediata essiccazione del prodotto per poi il suo conseguente stoccaggio. Quindi anche questa elevata meccanizzazione ha fatto sì che il produttore riuscisse ad avere la sua marginalità sulla produzione. E la salubrità della cultura può non essere rapportata al boom salutistico che ha reso la nocciola protagonista di un nuovo spazio di mercato e di un nuovo interesse da parte dei consumatori. Quindi non solo dolci ma nocciola tale quale, questo grazie anche all'intervento recente in un convegno a Grenzane-Cavour, proprio del Policlinico di Monza che ha stilato il decalogo del perché fa bene mangiare le nocciole ogni giorno. Sì, la nocciola non viene solo utilizzata come prodotto dolciario, però è stato scoperto e recentemente si è tenuto un convegno a Grenzane-Cavour proprio su questo argomento, sulla qualità della nocciola, è stato scoperto che un consumo moderato di nocciola al giorno dà dei benefici effetti alla salute, soprattutto sul apparato cardiovascolare. Quindi si sta scoprendo per la nocciola anche un'altra via che è quella di prodotto salutistico. Infatti l'aumento di consumo del prodotto è dovuto anche al fatto che i consumatori hanno preso consapevolezza che la nocciola fa bene alla salute e dall'altra parte i produttori hanno anche acquisito la consapevolezza che il prodotto va comunque coltivato con particolari pratiche agronomiche corrette per poter dare un prodotto che oltre a soddisfare il palato dei bambini soddisfa anche il palato degli adulti proprio per le sue qualità organolettiche e nutrizionali. Dicevamo puntata speciale con una modalità nuova all'interno del format Robeda Fedagri News, quindi ci concentriamo sugli eventi che per la nocciola diventano l'evento. È in corso ed è la 63esima sagra della nocciola che si sta svolgendo in questi giorni a Cortemiglia dove ovviamente sarà presente anche Nicoletta Ponchione. Si sta svolgendo proprio in questa settimana la sagra della nocciola a Cortemiglia. Sono degli eventi belli a cui è bello partecipare perché così si tocca da vicino anche quello che è il mondo della nocciola che oltre che essere gentile è anche favolosa che è l'appellativo che è stato dato per questa sagra. Proprio questo sta a sottolineare il fatto che intorno al mondo della nocciola ruotano tante cose, ruotano i produttori, ruotano le persone che amano la nocciola. È un mondo che si sta scoprendo, è un mondo sempre in continua evoluzione e proprio con queste sagre, per esempio a Cortemiglia, si dà la possibilità di far vedere come si sta anche evolvendo il mercato della nocciola, la produzione della nocciola e si dà la possibilità di toccare con mano e di assaggiare come la nostra tonda gentile sia anche favolosa. E a questo punto la domanda è d'obbligo ma la nostra nocciola, la nocciola ufficiale della nostra regione come potremmo chiamarla da oggi in poi senza sbagliare, senza non tutelarla? Chiarirei un punto su questa questione, che esiste il circuito di qualità nocciola Piemonte IGP. La nocciola Piemonte IGP può chiamarsi così solo la nocciola prodotta dalla pianta che è la tonda gentile trilobata, ora chiamata tonda gentile. Quindi questo è un distingo molto importante e che è coltivata in Piemonte e nei comuni che sono elencati sul disciplinare. Questo è importante dirlo perché una nocciola non è solo una nocciola, esistono diverse varietà coltivate in tutta Italia. La principale coltivata in Piemonte è la nostra tonda gentile trilobata che dicevo giusto appunto da la nocciola Piemonte IGP. Quindi dopo questa precisazione direi che la nostra tonda gentile è la denominazione corretta, con il sinonimo tonda gentile trilobata. Quindi io auspico che il nome tonda gentile delle langhe non venga più utilizzato per proprio la tutela e la salvaguardia delle produzioni e dei produttori locali. E quindi ringraziamo Nicoletta Ponchione che da grande esperta proprio della nocciola ci ha guidati in questo percorso di approfondimento necessario, sia perché come dicevamo siamo in tempo di raccolta appena iniziata delle nocciole in questa stagione 2017, ma soprattutto siamo in un momento storico determinante per i corilicoltori. Quindi tutela della nocciola e la tutela della nocciola passa anche dalla tavola perché c'è una nuova consapevolezza soprattutto acquisita da parte del mondo dei produttori su quanto una manciata di nocciola al giorno così come di mandorle e di noci possa essere determinante nell'equilibrio nutrizionale ma direi anche nella tutela della salute. Questo non siamo noi di Fedagri a dirlo ma è stato il Policlinico di Monza proprio come abbiamo accennato prima nel convegno recente a Grenzane-Cabur quindi una manciata di nocciola al giorno corrispondente a 30-40 grammi perlomeno per aiutare a debellare il colesterolo cattivo e a promuovere quindi a modificare, incidere su quello buono. E come fare per in qualche modo preservare questa quantità all'interno della dieta quotidiana? beh a noi è venuta in mente un'idea quindi ci facciamo aiutare dal progetto Piacere Piemonte in collaborazione con la regione Piemonte, Fedagri Piemonte per farci così dare qualche suggerimento per mangiare locale e stare bene. E quindi dal progetto Piacere Piemonte in collaborazione con il Qui da Noi a livello nazionale di Conf Cooperative ecco per voi la ricetta del giorno di Robe da Fedagri News ovvero linguine con porcini besciamella e zucca alle nocciole. Ingredienti per 4 persone 300 grammi di linguine, 100 grammi di funghi porcini, 25 nocciole crude, 20 grammi di zucca disidratata un mestolo di besciamella, sale e pepe per la besciamella 15 grammi di burro, 15 grammi di farina, 150 ml di latte intero sale, noce moscata, infine per guarnire un po' di prezzemolo, pepe e 5 nocciole triturate. Procedimento Fate fondere il burro in una casseruola, togliete il recipiente dal fuoco e versate la farina, setacciata e poco per volta. Amalgamate bene il tutto fino ad ottenere una pastella omogenea, poi diluitela poco per volta con il latte intero caldo, mescolando con cura per evitare la formazione di grumi. Quando avrete versato tutto il latte aggiungete un pizzico di sale e rimettete il recipiente sul fuoco portate quindi a ebollizione mescolando continuamente non appena si sarà addensata e comunque ai primi bollori aggiungere la farina di zucca disidratata mescolare velocemente e spegnere la fiamma Pulite i funghi porcini eliminando la parte terrosa del gambo e poi strofinateli delicatamente con un panno quindi tagliateli a fette. In una padella scaldate l'olio extravergine di oliva e uno spicchio d'aglio schiacciato Appena inizia a soffriggere unite i funghi porcini e fate insaporire per 5-6 minuti a fuoco lento coprendo con un coperchio Trascorso il tempo aggiungete le nocciole sminuzzate, lasciatele tostare per circa un minuto, salate, pepate e aggiungete la besciamella alla zucca Lessate quindi la pasta in abbondante acqua salata e scolatela al dente, avendo cura di conservare un mesto di acqua di cottura Versatela nella padella con il condimento preparato e mescolate aggiungendo, se rimane asciutto, tutta o parte dell'acqua conservata Infine girate rapidamente e servite guarnendo con del prezzemolo tagliato al momento, nocciole e pepe Buon appetito! Ed è tutto per questa puntata alla nocciola di Robe da Fedagri News Noi vi salutiamo dalla redazione di Telecupole e vi auguriamo buone vacanze o buona ripresa lavorativa